mi allieva ormai sarei al corrente del caos provocato dai ribelli ho ideato un piano ma dobbiamo agire in fretta per ricevere i tuoi ordini vieni da me al cimitero come questo cammina questo? vai presto ok facciamo con la gate che amore immazzato è riuscito a sbagliare l'attacco proprio lì non siete passanti, vedi non ero io cimitero di San Piteò ok, secondo Agathe io sono leale, cosa ti serve? non so cosa tu e Messie Blanca stiate cospirando ma è chiaro che in questo momento nel caos delle rivolte un Loa dovrà finalmente lasciare la valise e negoziare la pace che c***o sta parlando sto lo farò immaginavo ne avrete anch'io perché giusto perché voglio uccidere qualcuno in questo momento basta che mi lascia in pace anche quello lì che mi ha detto buon giur l'avrei ucciso se avessi potuto andiamo ai 70 metri da qua quindi dovremmo fare preparare un'imboscata in meno di 4 minuti uccide uguale senza farti individuare che mi faccio preparare un'imboscata? non posso preparare un'imboscata iniziamo con questo intanto che è da solo lo facciamo al giro di qua goodbye anche a lui tra l'altro se ne vanno ognuna per i cassi suoi per rendermi ancora più facile il lavoro nooooo vabbè il c***o ah ok va bene così perfetto cosa devo fare adesso? devo andare lassù non capisco cosa debba fare interagire ok quindi abbiamo distrutto un coso per bloccare la strada lo dovremmo fare anche di là cosa di simile perchè ce ne sono da tutte e due le parti vabbè vabbè poi dovremmo nasconderci qua dietro allora prendiamo una cassa e lasciamo l'oggetto lì va ok ok quindi arriva la dirigenza molto lineare eh molto molto lineare eeeh molto lineare eeeh eeeh molto lineare eeeh eeeh ho fatto il primo coso sbarrato siamo bloccati non c'è scappo cosa? non è successo niente una volta che ho pesato la pistola per mia F mi era il barriere di polvere della spada per mia Cooper sparare eeeh non ce l'ho la pistola non ce l'ho non ce l'ho la pistola ma non ce l'ho la pistola non ce l'ho la pistola e non so cosa dirvi ah ok perfetto questo non l'avevo visto prendiamo F e Cooper sparare i miei ultimi soldati di Ulo potevo farlo anche prima questo ho messo mi sparano mi saltiamo in testa vedete qua vedete qua ah questi qua sono moschettiere quindi devo prima togliere le armi e poi ucciderli perfetto quindi cosa devo fare qua? difficoltà zero questo gioco hai difficoltà zero ti prego ti prego no risparmi a mia moglie tu hai forse risparmiato le vite degli schiavi e lavoratori che hai strappato ai loro cari? si stanno tutti benissimo li ho solo portati in Messico in Messico? e perché mai? non lo so io collaboro e basta ti prego mia moglie non sa nulla le ho detto che trasportavamo criminali trasferiti dalla prigione della città lei è innocente permettimi di rimediare tu se non ne sai nulla sono un uomo di scienza le mie spedizioni al sud richiedono strumenti e mano d'opera la regione è ricca di reperti che risalgono persino ai Maya inoltre posso offrirti questa serve a decifrare documenti segreti come questo ora mi volterò e andrò via se ci tieni a restare in vita abbandona subito questo continente e non tornare mai più grazie grazie della tua pietà pietà questa non è pietà ora dovrai stare sempre in guardia dai tuoi stessi alleati ti nasconderai come un topo vai e goditi la tua falsa libertà beh effettivamente si teleporta hai avuto successo il governatore Ulloa mi ha dato un trofeo da fastidio di estremo valore questo rende la morte di Ulloa una vittoria per la confraternita degli assassini come vorrei essere stato presente e dimmi le sue ultime parole grazie della tua pietà cosa? quindi l'hai lasciato andare? è in questo modo che vuoi dimostrarmi la tua lealtà? disobbedendo a un ordine diretto lasciando libero un nemico mio maestro tu sei arso dalla sete di sangue abbiamo un solo obiettivo liberare gli schiavi sconfiggere i nemici fare giustizia abbiamo gli strumenti per portare a termine la missione devo seguire il nemico immessico ora non farai una cosa del genere forse non lo capisci ma devo seguire il mio istinto cos'è un assassino senza la disciplina? sconterai la tua insubordinazione correrò questo rischio